Grazie! Allora Alex, ben ben arrivato. Ciao, buona sera a tutti! Senti, ma tu a scuola com'è che andavi? Perché prima ne stavamo parlando abbastanza. Dai andavo bene, stavo uscito con un ottimo voto. Non è vero. Ma cosa stai dicendo? Come no? Non voglio dire, cambia argomento per favore. Quanto è il tuo ottimo voto, scusa? 92. Boom! Boom! Allora, allora, allora.